Eccomi qua, sono io Giacomo Rizzo, che sto per darvi un messaggio importante. Abbiamo un laboratorio qui a Cinema Fiction, un laboratorio importante perché parliamo di cinema e di teatro. Qui si terrà un masterclass che è la durata di otto mesi, i posti purtroppo non sono tantissimi, sono pochi, e sarò io il docente e il direttore di questo corso. Questo laboratorio è importante perché vuole dare la possibilità a chi ha talento di cominciare una carriera d'attore, ma può dare innanzitutto a chi già fa l'attore la possibilità di saperne di più, di cinema e di teatro. Io se fossi voi non mancherei, sì, venite subito, Cinema Fiction, non mancate, è un masterclass che bisogna fare, perché uno dice, ma io ne voglio sapere di più di cinema, di teatro, venite, io sono il docente e il direttore di questa scuola. Non mancate, vi aspetto, arrivederci.